Ehi la ciurma e ben ritrovati qui su Mindtest Il video sarà un po' breve come al solito Ormai lo sapete, nel senso Questi video sono un po' tutti così diciamo Allora, era un po' che non salivamo qua sopra nella nostra torre di vedetta, no? Sì, un pochettino Potete vedere assolutamente come prima cosa qua tutto lo spiazzo ormai vuoto Che dove sta ricrescendo l'erba pian pianino E è ancora tutto da spostare, però ho le idee un pochettino più chiare Uh, interessante quello Potrebbe volere dire che c'è dello spazio vuoto qua sotto Anche perché là c'è una caverna, diciamo, che inizia di là E quella potrebbe essere collegata alla stessa caverna Quindi potrebbe essere che qua sotto ci sia dello spazio vuoto Ed effettivamente poi adesso vi spiegherò Qua c'è la nostra cucina con il nostro prato con i cespugli Là c'è la farm automatica che adesso dovremo andare a sistemare un attimo Poi c'è il nostro bellissimo laghetto Dovremmo anche magari trovare un nome al nostro laghetto Sì, c'è assolutamente da trovare un nome Quindi nei commenti via di nomi Qua sotto c'è la tettoina piccola del... Dell'orto La nostra casa garage che ho sempre più intenzione di cambiare Perché fa proprio schifo La farm molto poco automatica di alberi I suoi impannelli solari La statua dell'hater E il vecchio e carissimo gioco Ma questo forse non l'avevo mai visto da qua Ma è bellissima È bellissima A me piace un sacco da qua Che ne dite? Sì, è proprio bella Detto questo Togliamo full view Perché Se no Qua c'è da impazzire E Scendiamo Cioè più che altro impazzisce il computer Esplode Stai cercando di registrare Mindtest Con la visione completa abilitata Sì, magari i frame al secondo là Erano un po' bassi È possibile Per quella visione là Però spero che si sia visto discretamente Quello che avevo intenzione di fare Era, come ho anticipato nello scorso video Mettere la farm automatica Qua sotto E farci un passaggio A cui si accede dalla cucina In particolare volevo mettere delle scalette qua A pioli Ma giusto per scendere sotto il pavimento E poi una Una scala a chiocciola Magari due scale a chiocciola Che vanno a uscire Che vanno a uscire così E poi si ricongiungono Sì, però forse è una cosa troppo Troppo enorme No, forse è meglio fare una scaletta qua Poi una piccola scaletta che si unisce con quella No, non cose enormi Anche perché Cioè, fin fino è una farm automatica È come se fosse, non lo so Un garage Di un meccanico Cioè O non lo so Anche per qualche pavimento Quando cambiamo la casa Ma guarda che questo pavimento mi piaceva abbastanza Sì, quel pavimento mi piaceva abbastanza Ma ci stiamo perdendo Allora, prima cosa Ci saranno da craftare dei sorting tube Assolutamente Infatti avevo già aperto Come potete vedere Che efficiente Che efficiente L'inventario non ce l'ho pulito Però sono efficiente Per fare i sorting tube Però non mi ricordo più Stupido Lo avevo contati Ma non mi ricordo più Quanti sono quelli Dovrebbero essere 5 e 5 Però è meglio controllare Perché qua c'è da fare Poi per ognuno di essi Questo lavoretto Insomma 1, 2, 3, 4, 5 Ok, perfetto Vediamo un'occhiata qua Questa Grotticina qua No, va nell'altra direzione Va nell'altra direzione Però va bene Non è grave Ah, non ce l'ho neanche mai sceso di qua Forse ero sceso di qua Sì, ero sceso di qua Ok, perfetto Torniamo passando per il lago Con le ninfe bugate Potremmo chiamarlo tipo Il lago bugal No, ma noi abbiamo bisogno Di quest'altra chest qua Per fare dei 10 Sorting tube Che No, non ne avevamo Perché li avevo fatti Nel mondo in creative Cioè, fatti Non è che si fa Però nel senso Abbiamo un po' di mese Per fortuna Perché La Batcaverna degli iscritti Ha dato i suoi frutti Quindi andiamo a farne Eh, no Di più ce ne serviranno Ce ne servono quanti Quattro per tubo Sì Quindi Dieci Sono quaranta Quindi Cinque di questi Così dovrebbero andare bene Vediamo un attimo Ah, ma forse ne avevo già qua Di cristal No, no Allora, quindi Mettiamo questi E li mettiamo Così Perfetto Occio farne 10 E non uno di più 9 e 10 Ok, perché potrei farne anche uno di più Ma è meglio Non farlo adesso Ci pensiamo poi Dopo quando facciamo il resto E No, andiamo a dormire prima Ronfi, ronf Anzi Per fare una citazione Per Marco 88 Lolli, 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 lolli Ecco qua Mannaggia È tutto un po' triste Così Deserto Però Metteremo i I fiori molto presto In In modo molto Gaio I gaio I fiori Allora Andiamo a configurare qua Ma tecnicamente qua dovrebbe già andare bene Cioè fai solo Tieni non solo Il nero E il rosso E il resto dovrebbe essere a posto Altre uscite non ne ha Ma secondo me non succedono casini comunque Nel senso Qua ha solo due uscite E' banale E quindi Una di quelle prende Non credo che sia da configurare Però possiamo provare un attimo Tanto qua avremo Stavo guardando nell'inventario Tanto qua ne avremo Di cactus Di cacti Per mettere il plurale No Invece è da configurare Ah ma la torna indietro Uh Perfetto E vabbè Adesso là lo rimanda indietro Ma che caisse Ok perfetto E' andato Però se per caso io dovessi fare Tipo Allora Questo gli mandiamo Che Il bianco è disattivo Però se glielo manda dall'altro Lui lo prende E' il rosso E' il rosso Sì Giusto Quindi Bianco No Deve essere il nero Sì ok Bianco disattivo Ma il nero attivo Se mettiamo Adesso su quello L'ho fatto Su quello di mezzo Credo Prendiamo tutti questi cacti Quello di mezzo Dovrebbe essere Ok Adesso quando parte Ok Sì Sì perfetto Dovrebbe andare bene Basta configurarlo a tutti Che quello di destra E' disattivato Mentre gli altri Sono attivati Questo è a posto Questo va disattivato Quello E' attivati Tutti gli altri Ok Perfetto Questo l'avevamo Già configurato Questo è da configurare In modo Analogo Quindi così Per fortuna I colori sono sempre uguali Almeno uno Non si perde Cercando di capire Quale sia la configurazione Giusta Caso per caso Adesso se Noi provassimo A mettere I nostri cacti Ehi Ci arriva? No Non ci arriva Perfetto Vanno Tutti Tutti Nel verso giusto E questo dovrebbe aumentare Di molto La produzione Della farm Insomma Perché nessun oggetto Andrà più Perduto per strada Inoltre Questo è sempre Cianclodato Per il World Anchor Che abbiamo posizionato Quante cavolo di felci Che ci sono In quella zona Porca miseria E qua andiamo a fare La stessa cosa Andiamo a sostituire Con i sorting Tubetti Ah Qua sono Blu Ah Perché sono orientati Verso l'altro senso Però nero e bianco Sono uguali Sì Sì Quindi qua c'è da lasciare Il nero E il blu Attivi E gli altri Disattivarli Perfetto Prefetto Il nero e il blu Abbiamo detto Idem con patate Tre a posto Quattro A posto Cinque A posto Perfetto La nostra farm È sistemata Finalmente Poi adesso c'è anche Il cavolo Sotto Senza tutte brutture E cose varie Meglio così Davvero Meglio Certo Che È meglio Allora Detto questo Qua può spreddare Felce No 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 Quindi per ora Lasciamo così Però possiamo mettere Mettiamo un po' di viole Per ora Che di viole Non ne abbiamo tante Viole e E questi Gerani blu Che ne abbiamo solo uno Ma Ci si augura Che spreddiano Là ci sono anche già Delle altre viole Quindi Speriamo che non prendano Sopravvento le viole Insomma Perché Poi dopo ci ritroveremo Con pochi gerani blu Ed è Un casino Andiamo a metterne Magari altri due Per essere sicuri Che ci sia Un buono spread Di Di questi gerani blu Insomma E così Tra un po' di episodi Forse sarà Un bel pratticello Come questo qua Questo è davvero carino Con tutti questi fiorellini qua Davvero Forse dovrei anche raccoglierne Un po' Comunque Questa texture Della rosa È Troppo 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 È spettacolare Qua di questi arancioni Potrei anche toglierli Tanto ce n'è A bizzeffe Là da quel lato Quindi via Eliminiamo gli arancioni Li mettiamo qua Tra l'altro Non mi ricordo Se si possono Metterne i vasi Si forse ci sono Ancora i vasi I vasi Come si chiameranno Pot Non vase Si chiamano Pot Pot Da Harry Potter Ah ok Si 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 fa con tre di Clay Però la Clay Ottimo direi La Clay Ottimo direi Non si sa assolutamente Dove Poterla trovare Bisognerebbe andare Forse Dove bisogna fare La nave enorme Tutte cose Allora Per chiudere rapidamente Facciamo ancora una cosa Che è il Node breaker No il node breaker Il node detector E il deployer Dovrei fare tutte e due Node detector Ma ne faccio solo uno Per farvi vedere Un attimo Il crafting No però siamo già a 14 minuti e 20 Quindi forse è meglio che Di questo ce ne occupiamo Poi per la prossima volta E il deployer No deployer si chiamava Si credo di si Si Questo non è per niente difficile Basta fare un pistone Nella fin fine E il gioco è fatto Insomma Di stone Ne abbiamo Fin che ne vogliamo E quindi Siamo Parecchio posto Poi Dobbiamo craftare Un sacco di altri sorting No questi li mettiamo via Scusate Li mettiamo qua Un sacco di Sorting cube Pensavo di fare una farm All'incirca di 20 di cotone E 20 di grano In modo da avere Una discreta produzione Insomma Che sia una farm Seria No Cosa No mi era sembrato Di vedere una roba strana Che sia una farm seria Che abbia una produzione discreta Nel senso che qua Alla fin fine In questo mondo Loggo quasi solo Quando registro Di conseguenza In quei 10-15 minuti Vorrei avere Una discreta produzione Visto che una pianta Di cotone E una pianta Di grano Solitamente Sono arvestabili Una volta Ogni 20 minuti Cioè Una volta Ogni ciclo Di giorno Sono note Vuol dire Più o meno Una produzione Di grano E di cotone A video Per pianta Se ne abbiamo 20 Almeno sono 20 Grano E 20 cotone Il che vuol dire 20 diviso 4 5 5 pagnotte E 5 Blocchi di lana Per video Il che mi sembra Al minimo Indispensabile Insomma Giusto per fare Qualche cosina Detto questo Devo Upgradare Ancora di più La caverna Degli iscritti E poi ci penserò Perché Siamo sempre di più E ora siamo A 74 Addirittura Forse magari anche A 75 Quando uscirà il video E Boh Però ci penserò Adesso È un periodo Un po' di Magra Diciamo Vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare Un mi piace Se per caso Il video Vi fosse Piaciuto E Se siete arrivati Fino a questo minuto Suppongo di sì Un salutone a tutti Se per caso Volete trovarmi Su facebook C'è la pagina In descrizione Ciao E buona giornata E buona giornata E buona giornata E buona giornata Grazie a tutti.